E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla Allora, leggiamo prima di tutto i vostri commenti prima di iniziare con l'episodio di oggi Allora, abbiamo già diversi commenti che dicono la stessa cosa e quindi ci consigliano la stessa cosa Ovvero di creare una fornace automatica nello spazio vuoto della casa Io non vorrei crearlo proprio in quel punto ma al posto proprio delle fornaci che abbiamo noi adesso Visto che, se vi ricordate, hanno due lati praticamente Ho messo sei fornaci da una parte e sei fornaci dall'altra parte del camino Potremmo fare in modo che da una parte mettiamo tutto l'input e dall'altra parte invece mettiamo tutto l'output Quindi possiamo organizzarlo anche in questo modo Poi molti di voi mi hanno anche detto e consigliato comunque di aggiornare Minecraft Ed è quello che infatti ho fatto oggi Non è che oggi andremo a creare i nuovi blocchi presenti sul nuovo snapshot di Minecraft Un consiglio che leggermente mi è piaciuto è quello di Marco Deve ci consigliare di creare un giardino con in mezzo una fontana al centro della nostra casetta Quindi all'interno E come idea ci sarebbe abbastanza bene Soltanto che praticamente dovrei cercare di fare una sottospecie di lucernaio sopra In modo che dovrebbe entrare al suo interno la luce anche diciamo naturale di Minecraft Quindi in questo caso dovremmo un pochino modificare la casa Quindi non so, in caso vi piace anche a voi questa idea Scrivetela sempre qua sotto nei commenti con l'hashtag Vanilleme In modo che poi nei prossimi episodi andrò a vedere un pochettino cosa fare Poi anche mi avete consigliato appunto di fare la farm di polli La farm di polli la faremo nei prossimi episodi Insieme anche appunto alla fornace automatica In modo che automatizzeremo il tutto Mi è stato anche consigliato di rispostare il camino E di metterlo dove abbiamo diciamo l'uscita La porta sul retro della nostra casetta Che ci porta all'interno di quella caverna In modo che possiamo utilizzare il camino Per creare un'altra entrata o uscita segreta In questo caso Che appunto ci porta dalla parte opposta della casetta E come idea abbastanza grina Soltanto che non ho tanta voglia di spostare il camino Quindi in caso o farò una sottospecie di libreria Che si andrà ad aprire Oppure un secondo camino Che appunto avrà al suo interno questo passaggio segreto Comunque ragazzi Queste qui erano più o meno le vostre idee che avete scritto Sotto lo scorso video Vi ricordo che potete darmi qualsiasi vostro consiglio Sempre con l'hashtag Vanillem Qua sotto nei commenti Io ogni tot di episodi Un pochino a caso Li andrò a leggere Per poi decidere appunto insieme a voi Cosa fare nei prossimi episodi Comunque detto questo Possiamo iniziare subito Perfetto ragazzi Perfetto ragazzi eccoci qui Siamo all'interno della nostra casettina Che come avete visto Anche da scosti visto L'abbiamo allargato a dismisura Come detto Oggi andremo Per l'appunto A creare i nuovi blocchi Tramite la ricottura Della clay colorata Come in questo caso Che già sto facendo qua E solo andremo a prendere Dell'altra clay Qui abbiamo anche il colorante nero Sì sono un genio Perché devo metterla anche a cucinare Questa qua Quindi mettiamo subito qui A cucina per fare l'hardened clay Comunque già intanto Ho creato Blocco con la clay nera Quindi questo qua Che a mio parere È uno dei più belli Dobbiamo soltanto scegliere Adesso il motivo Su appunto Come utilizzarlo Perché praticamente In base a come noi andiamo a piazzare Hanno un motivo diverso Allora qui Ho fatto anche questo qua Così ne abbiamo Aspettate un attimo Ecco Infatti mancava un blocchetto E andiamo adesso a suddividere Un pochettino qua Mettiamo nell'altro carbone Lo mettiamo qua dentro Così almeno è anche più veloce Perfetto E adesso Dobbiamo continuare a scavare Qui a terra Chi già mi stavo portando avanti Perché appunto oggi Andremo a fare il pavimento Di questa stanzetta Finalmente dopo dieci episodi Scaviamo qua Con la nostra bellissima pala Appena saliremo ragazzi Al livello 30 Sperando di non morire di nuovo Per l'ennesima volta E incerteremo Il primo piccone Perfetto Abbiamo levato tutto quello schifo Che c'era a terra Incominciamo quindi con il nuovo pavimento Con appunto I black glazed Terra cotta Ok Allora Dobbiamo metterli Non so come Io volevo fare tipo in questo modo Allora O si fa così ragazzi Tipo State vedendo adesso Oppure possiamo fare in altro modo Che sarebbe Praticamente Per quest'altro senso Adesso vi faccio subito Per dirvi Allora praticamente Questo è il centro Quindi ecco Così 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 Io il centro lo farei in questo modo Per poi fare il motivo inverso Per il continuo Allora ecco Adesso è un problema In dovinare come posizionare questi blocchi Vediamo se è così Ok Quindi poi così E poi così Quindi di conseguenza Questo va messo Ecco Lo sapevo Quindi questo qui Lo dobbiamo mettere Poi noi Così 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 Ok Non ho sbagliato In questo modo Guardate che figata ragazzi Sono bellissimi sti nuovi blocchi Allora Adesso continuiamo ancora A creare appunto Questo motivo a terra Puttana Madonna Prima c'erano le scalette Ora ci sono questi blocchi Ok Credo di aver capito Come funzionano mai sti blocchi Dopo un quarto d'ora Che sto impazzendo Credo di aver capito Finalmente Scherzavo E questo Piazzare quelli sotto le chest È veramente difficile Poi c'è anche la crafting table Quindi Andiamo un pochettino Se abbiamo piazzato così Dobbiamo piazzare il resto Così Ok Poi questo così E questo così Ottimo Ora c'è questo Dobbiamo piazzare noi Mannaglia Al contrario Praticamente Così Questo poi così Questo così E questo così Ottimo Questo così Così Questo invece Dobbiamo farci l'abitudine Con questi nuovi blocchi Perché sono veramente complicati da piazzare Comunque guardate che è figato il pavimento così È bellissimo Ok ragazzi Mi sa che abbiamo finito i blocchi Sì Comunque abbiamo già quasi finito il pavimento Perché Io vorrei farlo sinceramente Fino qua Il pavimento E poi naturalmente anche Quello sotto La Le chanting table Quindi adesso vediamo se La nostra fornace Anzi Le nostre fornaci Hanno finito Hanno finito di cucinare La nostra Alternate clay Perfetto Dove esso soltanto ricolorarla Rimettere di nuovo a cucinare Quindi andiamo a fare così Nope Così Ok In questo modo Il pavimento 64 Rimettiamo adesso Tipo 16 qua 16 qua Prendiamo del carbone di qua E lo mettiamo qui Poi prendiamo altri 16 qua Li mettiamo qua E altri 16 qua Li mettiamo qui Perfetto Nel frattempo E ho letto anche appunto Nei commenti Di creare la casa Degli iscritti Dove mettere diciamo Tutte le statuette Di voi Con le vostre testoline Però Io volevo farlo qua sopra Proprio in questo piano Quindi volevo mettere Qui i primi due iscritti Del episodio 5 Qui ci sarebbe Sasha Poi qui ci sarebbe Erne Qui ci sarebbe Anna Poi qua forse metteremo Altri due iscritti Il episodio numero 25 Non lo so Questo qui andremo poi a vedere Di vedere tutto da voi E anche Dal vostro feedback Sempre sotto A questi video Ok qua Ce ne abbiamo altri 6 7 Altri 6 E altri 7 Ok ne abbiamo 26 per ora Tanto il tempo Che andiamo in posizione Visto che si sbaglia sempre E quegli altri blocchi Hanno il tempo di cucinarsi Del tutto Allora quindi Per completare così Fa così E così A me sono diventato bravo Qua dobbiamo metterci così Qua dobbiamo metterci in questo modo Adesso qua Dobbiamo metterci invece Così No ecco Lo sapevo Ma veramente no Raga E da un quarto d'ora Sto facendo sto pavimento E ancora non sono riuscito a capire Come si mettono correttamente Sti blocchi Ok No Non è giusto Non è messo per bene Allora questo lo mettiamo qua E corretto Così Quindi questo va messo Non così Ma così Ok E questo qui va messo In questo modo Poi qua è lo stesso Così Così E questo qui è molto a giro Per fare sto partner In questo modo Basta che andiamo a girare Ed è corretto Poi per mettere ad esempio Quello che è Diciamo che si deve collegare A questo qui Basta ci mettiamo sempre In questo modo E facciamo così Questo qui dove Girarci così E questo qua E questo qua metterci così In questo modo Ad esempio Questo qui E guardate che figato Sto pavimento Cioè è bellissimo Partono un pochettino Gli occhi Se ne vanno un pochettino A quel paese Però L'effetto che danno Sono bellissime Non vedo l'ora poi Di riuscire a modificarli Per mettere la texture Pache tutti in 3D Fatti in un modo assurdo Veramente Allora adesso Dobbiamo piazzare La nostra enchanting table Che si deve piazzare qua Ottimo Vediamo se Pia tutti i livelli 28 Vabbè Non abbiamo 28 livelli In realtà Debbiamo arrivare a 30 Ah si Ragazzi Dobbiamo posizionarla così Perché praticamente Mancano Gli altri due librerie Ovvero Una qua Una qua E una qua Quindi sono tre librerie Per dargli Il trentesimo livello E questo qui È un pochettino Un problema Che è appunto Non ho calcolato Io quando ho fatto Questa struttura qua Praticamente ragazzi Ne possiamo incentare Fino al livello 28 Non fino al livello 30 Ed è un problema Questo Perché non saprei Che sinceramente Come fare Se nel caso Voi avete qualche consiglio Su come far arrivare Questo enchanting table A livello 30 Mi raccomando Scrivetevi sempre Qua sotto I commenti Con l'hashtag Vanilleme E vediamo se riusciamo A fixare questa cosa Perché naturalmente Se noi dobbiamo Incentrare qualcosa Dobbiamo incentrare A livello 30 Perché così abbiamo Molti più Incantesimi E sono anche Più potenti Comunque ragazzi Ora il pavimento Qui l'abbiamo finito Non so se Continuarlo anche Fino a qua sotto Non so Nel caso Consideremo sempre Qua sotto Nei commenti Detto questo ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo episodio Della venire Che dovrebbe uscire Dopodomani Mentre domani Uscirà Un altro video Particolare Che forse Sarà quello Che vi ho preannunciato Nel video di ieri Quindi se ancora Avete visto il video di ieri Potete cliccare adesso Qui a sinistra Per vederlo Mentre se volete vedere Un video casuale Cliccate a destra E nel caso Non siete ancora iscritti Cliccate al centro Dove c'è il mio auto In modo che vi potete Iscrivetevi al canale E nel caso L'avete fatto Attivate anche La campanellina Per le notifiche Detto questo ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti